Il forte in provincia di Alessandria è stato costruito sul monte Moro, una rocca rimodellata dall'uomo proprio per accogliere le robuste mura di difesa. L'origine del nome Gavi è incerta, potrebbe derivare da Gavius o da Gava, parola del dialetto dell'Italia settentrionale, o da Gavia, principessa franco-germanica, o da Gavi, ovvero insediamento. Da quando si conosce la presenza del forte? Non è possibile dirlo con certezza, ma si è ipotizzata la presenza di una costruzione già prima dei Romani e poi di un Castellum romano dal secondo secolo avanti Cristo. Le tracce di un'antichissima costruzione bizantina sono sicure. Il primo documento che parla dell'esistenza di un castello è del 973. successivamente la storia del forte diventa frenetica a causa delle numerose invasioni e occupazioni, in particolare dei genovesi, 1528 in poi. la caratteristica del forte che più attirava i popoli dei territori attorno era la sua posizione strategica, tra Genova e Torino, sulle vie che portano in Lombardia, Piemonte, Liguria e Francia. Con il crescere delle innovazioni in campo militare si inizia a pensare a un rafforzamento della struttura, in particolare tra il 1626 e il 1631 grazie all'ingegno di Gaspare Maculano. il forte è prima proprietà dei genovesi e poi dei francesi, ma nel 1815 passa al regno di Sardegna e ai Savoia e diventa un carcere. Successivamente il forte diventa campo di prigionia per gli austro-ungarici durante la prima guerra mondiale e per gli ufficiali anglo-americani nella seconda guerra mondiale. Negli anni 70 si è dato avvio al suo restauro e recupero. Vengono create la sala convegni, sale per le esposizioni e per lettura. Oggi si apre la nuova sfida di far rivivere questo luogo spettacolare, ripensando l'uso senza dimenticare la storia che ancora si respira tra i suoi muri. Conservare non è solo mantenere, ma anche valorizzare, modernizzare e tramandare. Guardare al futuro con la consapevolezza del passato. Dal 2015 il forte fa parte del Polo Museale del Piemonte. Grazie. 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 Grazie.